Questa è l'azienda agricola di quartiere La Vital, abbiamo iniziato a coltivare qua da un anno circa. Facciamo ormai tutti i sabati un mercatino di prodotti biologici molto buoni e lì al divaio sociale entrando da via Piero Bottoni. Noi nasciamo come azienda agricola ma il nostro vero grande obiettivo è quello di costituire una comunità a supporto dell'agricoltura dove le persone possono scendere sui campi, aiutare a lavorare, imparare quanto è bello lavorare con le mani anche se sono molto sporche e contribuire a abbassare i prezzi agricoli per tutti. È un lavoro manuale, per lo più sono aree periurbane quindi il futuro che sarà delle città è quello avere l'agricoltura intorno alle città in Paratelo e sarà fondamentale questo. Non più grossi macchinari, non più agricoltura estensiva ma un'agricoltura intensiva dove la qualità è il principale risultato che vogliamo raggiungere. Si può venire a lavorare qua sui campi insieme a noi e non c'è scusa di avere poco tempo perché anche mezz'ora può essere importantissimo. Potete lavorare se siete molto bravi ma se non avete competenze. Vi affianchiamo, vi insegniamo un lavoro e poi piano piano quando vorrete scenderete sui campi quando avete un'oretta libera ad aiutare.